La fede trasforma in vittoria anche la sconfitta, ma non si impara sui libri, è un dono da chiedere a Dio nella preghiera. Lo ha ricordato Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta, commentando la liturgia del giorno. La prima lettura, dal libro di Samuele, racconta la sconfitta del popolo di Dio ad opera dei Filistei, sconfitto anche se portava l'arca e pregava Dio, ma senza fede, senza farlo entrare nel cuore. Nel Vangelo, invece, un lebroso, uno sconfitto nella vita, chiede a Gesù di purificarlo, di trasformare questa sconfitta in vittoria e aveva fede. Quando si chiede con fede, ha spiegato il Papa, si muovono le montagne. Chiediamo al Signore che la nostra preghiera sempre abbia quella radice di fede, nasca dalla fede in Lui. La grazia della fede è un dono, la fede. Non si impara nei libri. È un dono che ti dà il Signore, ma chiedelo. Dammi la fede. Credo, Signore. ha detto quell'uomo che chiedeva a Gesù di guarire il suo figlio. Chiedo, Signore, ma aiuta la mia poca fede. la preghiera con la fede viene guarita. Chiediamo al Signore la grazia di pregare con fede, di essere sicuri che ogni cosa che chiediamo a Lui ci sarà data, con quella sicurezza che ci dà la fede. E questa è la nostra vittoria, la nostra fede. Grazie. Grazie. Grazie.